Quali stagione di RIO? Andiamo in direttamente. Ok, finalmente siamo in via a RIO. Siamo molto entrati e molto orgogliosi, perché AEC devono essere qui dopo una soluzione successiva. E vogliamo provare che siamo capiti a competire in una soluzione difficile. Non è facile avere un lungo viaggio e incontrare persone dall'America che per sicuramente dovranno dare il loro meglio per ottenere questo titolo. Da nostra parte essere l'unica europea è una motivazione extra per provare un troppo che può rendere la nostra soluzione speciale. a 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